Carletti e Perez salteranno anche la gara contro la Virtus Verona in programma alle 17.30 di domenica 7 febbraio, a comunicarlo la società Amaranto che ha diffuso una nota al termine della seconda giornata di ritiro a Coverciano. Per Carletti dunque il problema pare ormai superato, è infatti vicino al recupero e già da inizio settimana potrà tornare ad allenarsi in gruppo. Per Perez invece i tempi sono più lunghi e sarà necessaria almeno un'altra settimana prima di poterlo vedere tornare sul campo. Completamente recuperato invece Cerci che lavora con i compagni già da qualche giorno. Rientrano poi anche gli squalificati costretti a saltare l'ultima gara contro il Gubbio, quindi Belloni tornerà disponibile come anche Cherubin. Le ultime scelte in vista del match di domenica l'allenatore Amaranto potrà farle nel corso dell'allenamento di rifinitura, ancora una volta sul campo Enzo Berzotta del centro tecnico federale di Coverciano, poi la partenza alla volta di Verona. La squadra infine nelle ultime ore è stata raggiunta anche dalla proprietà Amaranto al completo, che ha assistito agli allenamenti e poi ha voluto avere un confronto con i tesserati sull'attuale bruttissima situazione in classifica.